Eccoci qua, ciao e benvenuti a tutti. Io sono Paolo per Parrucchieri Revolution. Il taglio, il colore. Oggi voglio farvi una diretta un pochettino diversa. Prima di tutto voglio scusarvi per il ritardo, di solito lo facciamo alle 18.30 ma stasera abbiamo finito un po' tardi di lavorare. Per cui chiedo scusa per il ritardo. Stasera vi voglio parlare della relazione fra il taglio e il colore ma non sull'estetica semplicemente colore in abbinamento al taglio. Come vi dico sempre il colore deve essere un complimento per il taglio, no? Voglio analizzare i problemi che mi può generare un colore su un taglio di capelli. E' capitato, in più di un'occasione fai un taglio bellissimo. Mi è capitato, torno indietro un passo, scusate, sono un po' stanchissimo, è per quello. Torno indietro un passo. Allora, cosa succede? Mi hanno fatto notare, qualche cliente in più di un'occasione mi ha fatto notare come dove se era rivolta a tagliarsi i capelli prima il taglio era bello, tutto a posto, tutto bene, vado a casa, lavo i capelli due o tre volte, un casino. Eppure io faccio solo il colore dal parrucchiere. A casa uso prodotti di una certa qualità. Però è successo questo problema. Ripeto, il cliente che si fa fare il colore esce dal parrucchiere soddisfatissima del pacchetto taglio colore, va a casa, un lavaggio, due lavaggi, tre lavaggi e cosa succede? Succede che le punte incominciano a seccarsi tutte, incominciano a sparare, a non stare più a posto i capelli e lì vai, piastra, fono, tutto il solito lavoraccio per riuscire a contenerli, a schiacciarli, a sistemarli, a lucidarli perché le punte sono diventate secchissime. Ti faccio una domanda, ma con che cosa ti hanno colorato i capelli? Punto di domanda. Quale tipologia di colore hanno usato per colorarti i capelli? Come vi ho spiegato in diverse dirette, la qualità del capello è fondamentale. Io posso farti il taglio più bello del mondo, ma se poi il capello è eccessivamente disidratato o addirittura è talmente rovinato, il finale del risultato ovviamente è limitante. Negli ultimi anni specialmente siamo stati invasi nel mercato del mondo del parrucchiere dei famosi colori in dieci minuti. Colori che in dieci minuti di orologio ti danno la copertura che normalmente richiede un colore normale, tradizionale, 30 minuti. I prodotti che usiamo alla Revolution addirittura richiedono 45 minuti di posa. Ma per fare lo stesso lavoro in dieci minuti, qual è il trucco? Molto semplice. Sostanze molto aggressivi, ingredienti molto aggressivi, che vanno nel giro di pochi minuti a colorare il capello. Quando vanno sulle punte, questi prodotti tolgano immediatamente l'idratazione del capello. E qua lo fai una volta, lo fai due, anche se hai dei capelli bellissimi, ti ritrovi con tutte le molecole dell'idratazione bruciate. Ti fai fare un taglio, il taglio è fantastico. Ti fai fare anche il colore, un colore anche normalissimo senza andare a fare chissà quali alchimie. Tre lavaggi e pum, le punte che spara. Colore troppo aggressivo. Alla Revolution noi abbiamo fatto una scelta ancora vent'anni fa di utilizzare tutti i prodotti che non generassero problemi. La prima cosa che ci deve essere quando noi acquistiamo un prodotto è che non deve avere controindicazioni, non deve generare problemi né alla cute, cioè né alla pelle, e né tantomeno il capello, perché se mi rovino il capello è tutto inutile. Alla Revolution utilizziamo esclusivamente colori certificati. sono chimici, hanno all'interno degli ingredienti chimici, ma sono organici o addirittura usiamo colorazioni al 100% naturale a seconda di quello che vuoi fare. per cui se anche tu hai vissuto un problema simile e non vuoi rischiare di viverlo un'altra volta, chiedici pure una consulenza. Chiamaci 0371 89 89 00. Questo è il nostro numero di telefono. Siamo in via Cesare Battisti al 20-1 a San Colomano-Lambro. E se vuoi sapere qualcosa su di noi, guarda un po' il nostro Facebook, controllalo, oppure vai sul nostro canale YouTube, oppure ancora sul nostro blog, se ami leggere, www.parrucchieri-revolution.it. Abbiamo un blog con 150 articoli che parlano di tutto il mondo capelli. Ti aspettiamo, ti ricordo per l'ultima volta il nostro numero di telefono, 0371 89 89 00. Grazie a tutti, buon weekend, ci vediamo fra due settimane per chi vuole in ferie. Ciao!